Io lo sto filmando Allora vieni qui, siamo tutti all'Indre Perché ti sta fotografando Al parco commerciale, ancora Ho accompagnato l'Ale all'inaugurazione della palestra che frequenta Dove fa le gare di danza sportiva Tra un po' dovrebbe fare un'esibizione Su un pezzo musicale di tale Alice e non mi ricordo il nome Cos'è di Smeret Mania Abbiamo provato qua sulla balconata del parco commerciale C'è il buffet, il DJ Io ho avuto il piacere di accompagnare l'Ale in un posto che sta a cuore Se riesco non mi si scarica il telefono Filmo anche una parte della sua esibizione L'Ale che mi sono fidato a lasciarla libera di scorassare con la sua sedia a rotelle elettrica Oggi vado lungo alla coreografia Faccio così e mi sono inchiodata Perché hai visto il piano? Perché hai visto il piano? Le 7 e me Le 7 e me Le 6 5 5 Fil? Vado a filmarti Pufi Amore Un video assolutamente delirante, ma a noi piace così. No, sono serio, ho trovato una Brescia, vogliono 36.200.